Salve a tutti signori, scusate l'assenza prolungata dagli schermi, ma torno con un nuovo annuncio. Il Wrestling Parlato, io, anzi noi, con Wrestling Parlato, sbarchiamo su Twitch Italia. Wrestling Passport, prima puntata ufficiale 29 gennaio. Domenica 29 gennaio, domenica della Royal Rumble, dove parlerò con voi, parleremo tutti quanti assieme, della Royal Rumble e di quello che è successo del Gone Show, della Royal Rumble, di previsioni, eccetera. Ma, c'è un ma. Il ma è, ci sarà anche una puntata pilota, una puntata prova, fra virgolette. Questa puntata prova arriverà questa domenica, ovvero domenica 22 gennaio. E ci saremo noi con voi, canale VFactor82, cercate VFactor82, che sarà il canale per l'angolo del lupo su Twitch Italia. Che Twitch Italia non sarà angolo del lupo, ma sarà Wrestling Bar Sport. Perché questo voglio che sia un bar sport, un posto di ritrovo, dove poter parlare di wrestling assieme a voi, assieme a voi dalla chat. Confrontarci, scambiare pareri con voi. Avveto subito che farò, inizialmente, quei mezzi e potrò, insomma, con lo stesso cellulare con il quale registro le puntate dell'angolo del lupo. Ma prometto che, appena possibile, mi dotterò di mezzi più opportuni. Detto questo, vi do appuntamenti intanto a domenica. Molti appuntamenti, ora ci sono. Domenica 22. Domenica 22 di gennaio. Probabilmente verso le 9 e mezza, di sera, verso le 21 e 30, con la puntata pilota del Wrestling Bar Sport. Vi aspettiamoli. Poi, ovviamente, in settimana, su YouTube, il solito canale YouTube, il solito angolo del lupo, il pre-show. E poi, domenica, di nuovo su Twitch Italia, di nuovo sul canale V-Factor 82, canale di Twitch, con voi, per un'altra puntata, per la puntata prima, vera puntata ufficiale, del Wrestling Bar Sport. Con voi, signore. Noi con voi, voi con noi. Perché dico noi? Molto semplice. Se tutto va bene, con me ci sarà qualcuno. Che chi mi segue dalle prime puntate, sa benissimo chi è. Ma non dico niente. Ci vediamo domenica 22. Noi, con voi, Wrestling Bar Sport, canale V-Factor 82, di Twitch Italia. Aspetto voi.